Non c'era da venire Non c'era da venire Non c'era da venire Non c'era da venire Grazie a tutti. Le mani possiamo accompagnare Daniele, anche perché tra poco va fuoco. Le mani possiamo accompagnare Daniele, anche perché tra poco va fuoco. Le mani possiamo accompagnare Daniele, anche perché tra poco va fuoco. Le mani possiamo accompagnare Daniele, anche perché tra poco va fuoco. Grazie a tutti.